ragazzi facciamo la ruola perché Emanuele siamo live mitico stasera riproviamo? stasera dico due parole all'inizio e poi ringrazio la fine poi taccio perché l'ospite di stasera è troppo importante non gli possiamo rubare nemmeno un secondo quindi ringrazio Anna ringrazio Antonio e ringrazio tantissimo Emanuele Tolomei per essere qui stasera con noi per chi non lo conoscesse comunque Emanuele presentati e dopodiché divertiamoci sono Emanuele Tolomei come ho visto sotto mi sono scritto apprendista seriale perché ho riscoperto da quest'anno il gusto di essere allievo e di essere tornato ad imparare qualcosa di nuovo di cui poi magari se c'è tempo alla fine vi racconto però ecco dopo tanti anni ormai nel digital mi sento un po' un custode diciamo di quello che è successo e che continua a succedere nel digital e cerco un po' di di come dire dare non tanto i suggerimenti ma delle conferme a persone intelligenti che oggi hanno scelto il digital come strada da percorrere è una cosa che che mi piace molto sentire soprattutto dai giovani se viene anche se ce ne stanno un po' pochi e questo sarebbe secondo me un argomento bello anche con cui iniziare guarda mi dispiace perché mi nasce già mille domande secondo te c'è pochi giovani? molto molto pochi guarda tempo fa proprio ne abbiamo parlato proprio anche quella volta che stavamo insieme nell'unico aperitivo che abbiamo fatto con Francesco e si è parlato anche per un attimo di questa cosa e poi ci ho ragionato dopo che che avevamo diciamo lanciato sta bomba e mentre altri altri settori vogliamo parlare dei social media manager o di youtube o di tiktok cioè altre altre realtà comunque digital hanno sempre attratto diciamo i più piccoli che poi oggi sono diventati guarda che ne so fa vj per dire che oggi ormai è un adulto però si è un youtuber e ha creato il suo business su youtube la seo non è mai stato un ambiente che ha attratto le nuove generazioni e questo secondo me è un fallimento scusa ti faccio una domanda ti leggo una domanda che è arrivata Michele ti chiede ci sono pochi giovani o pochi giovani veramente preparati no proprio pochi pochi in generale perché se ci fossero sarebbero molto più preparati di noi io guarda ti è una velocissima un velocissimo approfondimento per quella che è la mia esperienza a me capita spessissimo di essere contattato da persone che vorrebbero diventare dei seo ma non trovano quella fase intermedia che ti permette di passare da non so cos'è questo lavoro a comincio a piazzarmi sul mercato è lì che secondo me c'è un grande delta da colmare sì c'è una considerazione di Luca che c'entra molto secondo me con quello che dici tu Emanuele perché Luca dice che tutti quanti si avvicinano al mondo del social media marketing perché sembra che ci sia più rispondenza immediata no mi piace perché ovviamente sempre secondo pensieri inutili che mi piace sarebbero meno barriere tecniche esatto in realtà in realtà si lega a quello che dici tu perché effettivamente la seo ma tutte le materie devono essere studiate no? sì assolutamente poi Enzo Enzo mette già il dito nella piaga dubito invocando insomma un nome che prima tu parlavi devono nominare quel nome io c'era un altro che mi piace poco leggere che è quello che ha scritto Enzo però il discorso che diceva Luca secondo me sì è molto condivisibile perché non c'è un ritorno immediato sicuramente un ambiente piuttosto selettivo che richiede impegno studio sacrificio e tutto quello che vuoi tempo mentre il like comunque ti porta un risultato immediato però è anche vero che probabilmente non c'è anche da parte nostra da parte mia io parlo per quelli che hanno iniziato ai miei tempi e hanno fatto seo nei tempi non c'è stata nemmeno la capacità comunicativa di far capire che questo tipo di impegno o altro poi ti porta a un'indipendenza economica a una tranquillità una serenità diversa da quella che ti può dare qualsiasi altro ambiente su cui invece se non stai sempre sul pezzo il giorno dopo non sei più nessuno cioè come il social in sé youtube stesso uno youtuber che smette di fare video perde comunque subito interesse si ricordano che è uno che ha 10 milioni di follower però poi nessuno guarda più due video se non quelli nuovi arrivati che guardano quelli vecchi se sono evergreen ma se sei uno che sta sull'onda e parla di cose tutti i giorni che ne so racconti o parli di eventi insomma appena successi nel momento in cui smetti sei fottuto invece la SEO se ben gestita è un lavoro che ti consente anche di tirare il freno a mano come ho fatto io per quattro anni e vivere di rendita e probabilmente ancora ne ho insomma nel serbatoio per poter stare fermo però questo messaggio probabilmente arriva in modo sbagliato non lo so hai fatto vivere di rendita hai un video con la Lamborghini che ti dico non ce l'ho con il video di rendita intendi come professionista nel senso che il tuo nome era così noto ormai che per quattro anni anche se non ti sei più impegnato nel personal branding comunque c'è un sacco di gente che ti conosce sì ma intendo dire no anche a oltre a quello anche rendita passiva nel senso che comunque c'ho dei progetti che mi monetizzano tutti i mesi quindi appiliazione in questo caso sì 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 assolutamente ecco prendendo spunto da questa cosa c'era una discussione che stavamo facendo con colleghi fra cui pure Enzo mi piace quando ti riallaccia gli argomenti è capitato non ci fare l'abitudine non ci fare l'abitudine è capitato ma i collegamenti come la tesina delle stupe di ori tipo gli hyperlink esatto sto dicendo la stessa cosa perché oggi ti leggo nel pensiero secondo me comunque detto questo si parlava appunto dello step che c'è quando magari uno che è abituato a essere dipendente o che ha fatto SEO per tanto tempo per progetti non suoi improvvisamente fa una scelta ma gradualmente poi cerca di passare da quello stato allo stato di imprenditore digitale e mettere le sue competenze SEO al servizio di quei progetti ecco che difficoltà ci sono in questo step quando si è disperati perché magari dopo i primi sei sette mesi non arrivano i guadagni sperati come si può sopperire a questa cosa raccontaci un pochino che cosa ne pensi guarda io ho avuto la fortuna di avere l'agenzia quindi per dieci anni gestire un'agenzia con persone che vanno e vengono tra dipendenti partner clienti soci o altro ne vedi di tanti tipi e durante questi passaggi capitano delle opportunità e secondo me questa è la prima cosa cioè porre attenzione sull'opportunità anche chi oggi lavora come dipendente e magari sta lavorando a un progetto troppo spesso troppo poco spesso ragiona su quanto effettivamente sta portando valore a chi riceve quel lavoro quindi lo fa è contento del fatto che ha portato a risultato una commessa una commissione quindi dice il cliente ha chiesto di essere posizionato per x parole chiave oppure di ricevere 30 lid al mese oppure di vendere di fare 20.000 euro di fatturato al mese quindi tu arrivi a risultato ma non non ti fai i conti cioè non pensi a quanto effettivamente ci ha voluto per far arrivare quella persona al risultato questa è una prima presa di consapevolezza la consapevolezza è la cosa primaria oltre alla curiosità ovviamente anche di di farsi la domanda per me la parola chiave è sempre curiosità nella vita in assoluto però poi viene la consapevolezza quindi la consapevolezza quando c'è quando tu sai che hai portato un cliente da 0 a 1000 in 3 mesi di lavoro ok calcola quanto ti sono costati questi 3 mesi ok 3 stipendi sei disposto a rinunciare a 3 stipendi per ottenere il tuo primo risultato è solo questa domanda chiaramente questa se la può fare una persona che già ha delle competenze quindi quello che mi hai detto tu quando stai per fare il passaggio per arrivare a questo nel momento in cui ti sei risposto creati semplicemente la condizione per avere questi famosi 3 mesi o 6 mesi quelli che saranno in cui puoi permetterti di non ricevere per esempio uno stipendio faccio un altro esempio banale adesso non so se ancora c'è il Naspi per esempio ok il Naspi esiste quindi significa che tu se stavo dipendente per un tot da un'azienda per due anni percepisci quanto il 60-80% dello stipendio giusto mi sembra non vorrei dire un'assubitaggio perché io non ci sto dentro sì più o meno è sufficiente fare questo calcolo per fare il passaggio da dipendente a professionista a imprenditore digital quindi nel momento in cui tu stai dentro l'agenzia o lavori come professionista per conto terzi o altro e capisci beh se lavori come professionista al Naspi non ce l'hai però diciamo che comunque puoi accumulare qualcosa da parte dici vabbè metto da parte qualcosa tiro la cinghia per qualche mese oppure altro esempio che ho fatto faccio finta che uno barra due clienti non mi pagano il lavoro perché non mi venite a dire che non è mai successo a qualcuno che non ti hanno pagato il lavoro a me non è successo a me è successo più o che te l'hanno te l'hanno sottopagato o che te lo pagano male che magari te pagano un anno di distanza capito quindi comunque tu intanto che fai continui a lavorare ok però te sei esposto economicamente perché in quel momento non hai le risorse che c'hai se ti pagassero tutti beh quello è il prendere semplicemente coscienza che a differenza di quanto ti può capitare in modo involontario cioè il fatto che fai il lavoro e quello non ti paga decidi di farlo in modo volontario cioè dici agisco come se ok è affrontare l'imprevisto creandolo che assumi dei rischi chiaramente da imprenditura è una questione del mindset esatto i rischi c'erai lo stesso in qualsiasi certo scusami Michele Clemente ti fa una domanda a che età ti sei dedicato ai progetti tuoi e hai appeso l'agenzia allora aggiungo in realtà cos'è stata la molla che ti ha fatto scattare ad un certo punto allora i progetti miei li ho iniziati che già stavo in agenzia e quindi ti parlo eh io ho iniziato a fare eh ho aperto l'agenzia cioè ho iniziato a lavorare per conto mio a 29 anni nel digital quindi ormai sono 18 anni fa eh poi a 33 mi pare dopo 3 o 4 anni eh ho aperto l'agenzia no dopo 3 anni quindi nel 2009 dopo ho aperto l'agenzia no prima eh cioè più tempo è passato 4 o 5 anni quindi comunque l'agenzia l'agenzia è aperta nel 2009 e nel 2 e il primo progetto che ho fatto eh come agenzia è stato nel 2013 quindi dopo 4 anni e poi sono uscito dall'agenzia nel 2018 portandomi via eh alcuni progetti perché poi essendo 3 soci ci siamo un po' divisi e ognuno ci ha si è tenuto le sue cose però già ce li avevo inizia a farli che già continuavo a lavorare per clienti cioè a un certo punto della vita hai deciso di cominciare a lavorare per te sì questo secondo me è appunto è un punto focale cosa è stato che ti ha fatto smiggere in quella direzione e oggi a distanza di tanto tempo fra l'altro appunto un tempo dove hai anche deciso di non metterti in prima linea correggimi se non uso le parole giuste quali sono le considerazioni allora lì semplicemente quando parlavo di opportunità quando tu lavori o agenzia o conto terzi io tuttora comunque qualcuno che mi chiama per ricevere consulenza ce l'ho sia uno che vuole formazione o un'azienda che vuole che gli faccio che ne so un progetto o altro ne ho quindi non tanti però diciamo 2 barra 4 al mese io non è che ho grandi numeri però diciamo tra i 2 e i 4 al mese riesco a seguirne e che succede che parlando con le persone a me piace molto ascoltare quindi non parlo mai quando sto col cliente parla sempre lui perché tanto poi io gli dico soltanto alla fine sì o no cioè mi interessi non mi interessi e nel momento in cui allora gli dico però è è una forma di posizionamento magnifico anche Emanuele se lo mette scusate no lo facevo lo facevo già con esperto quando c'era ancora esperto quindi è sempre stato ad alto rischio questo posizionamento però ho fatto questa scelta a un certo punto e questa derivava dal fatto che c'era troppa gente che si lamentava con budget bassi quindi non mi interessavo la maggior parte dei clienti che stanno in giro fanno questo che vogliono sempre la solita discussione che vogliono sempre tutto una volta che tu capisci cioè prendi consapevolezza di quella cosa crei il tuo percorso ok faccio finta che ok io dico sempre così faccio finta che per due mesi non mi arriva nemmeno un cliente ma se me ne arriva uno voglio che sia un certo tipo quindi sono disposto a scartarne 30 per averne uno che è quello che voglio io sei selettivo da questo punto di vista così ti eviti le rogne diciamo esatto è molto è molto coraggiosa come scelta però va sicuro che che paga non alla lunga paga subito e questa è la differenza ma sì anche perché c'è voglia di lavorare perché se tu ti scegli un cliente che ti piace lavori con passione assolutamente cioè per farvi un esempio eh trovarsi a lavorare con una persona che che tu hai scelto e che a un certo punto ti dice guarda ehm ti trovo sto fine settimana voglio venire giù perché siamo due giorni insieme c'è gente così che ha preso la macchina l'aereo per per venire da me mi fa piacere per passare del tempo insieme per ragionare sul progetto a faccia a faccia per la soddisfazione quelli sono imprenditori cioè capito e so tutte persone con cui è tuttora sono in contatto distanza anche di otto nove anni mi ci sento sempre ma quello che è stato eh rilevante per capire quando iniziare a fare i progetti è stato proprio quello che un pochino accennavo all'inizio cioè è arrivato il tizio che mi ha proposto una cosa io gli ho fatto un preventivo lui ha rifiutato il preventivo ma ho capito che quella cosa avrebbe potuto funzionare l'ho fatta per conto mio ho dimostrato che funzionava poi l'ho richiamato gli ho detto da oggi c'hai un concorrente più eh bella e mi sono messo a fare questa cosa e la prima cosa che ho fatto è stata proprio nel 2009 considerate che già ancora non c'avevo manco l'agenzia però lavoravo già per conto terzi per altre aziende è stato quando ho fatto Lazio Catering è stato il primo progetto che ancora esiste considerate che sono passati ormai 13 anni ancora c'è e è un progetto che non è più mio cioè io l'ho ceduto incomodato d'uso tipo e e quello mi dà una rendita mensile fissa da un sacco di anni però non gestisco più cioè di un'altra azienda però quello è un progetto nato da una sfida eh fatta da un'altra persona che mi aveva detto secondo me questo settore potrebbe andare da qui in avanti io ho detto anche secondo me ci vado io la stessa cosa poi l'ho fatta dopo anche con la spesa quando ho aperto spesa online 24 che è un altro dei progetti insomma che che mi contra che che la maggior parte conoscono che ho fatto che a me piace tantissimo e che mi hanno chiesti format da tutte le parti d'Italia eh per replicarlo però poi quando era da farlo nessuno l'ha voluto fare perché comunque è impegnativo cioè comunque è una roba che picchia e pure quello è nato col stesso metodo mh è venuta da me un'azienda che mi ha detto vorremmo iniziare a pensare a fare un e-commerce per la consegna d'acqua a domicilio e io ho detto guarda che prepara che spende almeno 25-30 mila euro mi ha detto ma no ma c'è sta il tizio che me lo fa per 2000 non c'è problema guarda da domani c'è un concorrente nuovo e quindi mi sono messo una cosa del genere ho messo per tre mesi tutti i miei dipendenti a inserire prodotti fare foto e il mio ex socio andava tutti i giorni a Roma al magazzino a fare foto delle bottiglie e poi con Photoshop facevamo la duplicazione delle bottiglie la cassa da 6 la cassa da 12 la cassa da 24 facciamo la foto a una bottiglia e poi con Photoshop le moltiplicavamo se voi vedete adesso tutti i siti che vendono acqua in vetro usano tutti questo metodo fanno unica foto e poi la duplicano con Photoshop noi siamo stati prima quella cosa bello anche il fatto di vabbè qui Germano dice il lago di Piediluco dove stai tu Emanuele se volete ve li leggo commenti ce ne sono stati tanti bellissimi vabbè posso parlare solo io no fatemi le domande io ti farò domanda che si lega tantissimo a quello di cui stavamo parlando prima di iniziare alla diretta perché poi c'entra molto con il discorso che fa la questione di dare un prezzo di saper dare un prezzo al proprio lavoro come fare per chi ovviamente inizia a fare SEO e imprimitoria digitale dare un prezzo al proprio lavoro come fa qual è il consiglio che dà guarda io ho fatto sempre per gradi non lo so perché e ha funzionato quindi vi dico quello che ho fatto io essendo uno che tempo fa non sapevo dare un prezzo al mio lavoro e la fortuna mia è che c'avevo un socio invece molto bravo sia a vendere che apprezzare e soprattutto a sopravvalutare anche i lavori che facevamo quindi c'è stata una fase in cui tutti praticamente mi criticavano perché io ho sempre lavorato a costo orario e mai a progetto e tutti mi dicevano sempre no beh però se lavori a progetto guadagni di più è vero io sono stato a contatto con realtà anche molto grosse tra cui Ninja Market intanto per divene una è un'azienda che vende a 30 40 mila euro un'idea perché loro hanno un brand sono bravissimi hanno delle idee straordinarie hanno una credibilità che io non ho quindi loro comunque sanno quanto vale quello che stanno vendendo l'hanno prezzato sono stati tra i primi a fare quel tipo di attività e lo vendevano a pacchetto io mi sentivo un artigiano io tuttora sulla mia carta di identità c'è scritto artigiano io sono registrato come artigiano a registrare imprese quindi sono una persona che conosce i suoi limiti non mi sono mai sentito diciamo un grande venditore o altro anche se poi magari come dicevo prima a Fabio e lo riconosco in lui questa capacità siamo bravi a vendersi però poi magari quando si tratta dei prezzi è un po' diverso quindi all'inizio che ho fatto non sapendo né leggere né scrivere non mi facevo pagare cioè io i primi lavori tra il 2006 e il 2008 quasi ho quasi lavorato sempre gratis perché non c'avevo risultato mi chiedevano ma fammi vedere qualcosa che hai fatto ma non ce l'ho quindi ho capito che mi sarei dovuto creare un portfolio e per farlo ho fatto quasi due anni di lavoro gratis come mi sostenevo a quei tempi facevo dropshipping su ebay quindi in realtà non guadagnavo con la SEO ma vendevo prodotti in dropshipping quindi tutt'altro e poi facevo responsabile acquisti per un'azienda aspetta Emanuele in genere l'ascolto spesso no perché adesso stavo vedendo anche quello che scrivo scusa Emanuele a questo punto scusa la domanda forse retorica come nasce la figura di Emanuele e tu domani semplicemente per necessità perché la SEO è nata per una necessità semplice cioè quando tu a mia mano ho chiamato tipo la SEO io facevo il trasportatore prima prima facevo il lavandaio poi ho fatto il trasportatore per due anni sempre per una lavanderia c'hai la patente C? eh? hai la patente C? no no la patente C c'avevo un furgone con montacarichi fino a 35 quintali però quelli con la sponda sai che portavo le cose della lavanderia sugli alberghi sulle case di riposo insomma e e quindi a parte questo mi chiamano la sera guarda da domani il giro non c'è più quindi praticamente era stato tolto l'appalto per quel giro lì io c'avevo solo sto cliente quindi qui possiamo ricondurre anche il discorso avere un cliente solo che ti fa l'ottanta per cento del fatturato sei fottuto e io in quel momento purtroppo c'avevo solo quello quindi altra grande lezione c'avevo 28 anni qual è un errore che secondo me facciamo abbiamo fatto tutti esatto quindi ci passiamo ci sono parecchi ci sono passati poi dopo ci sta chi c'ha avuto grandi mentori io non ce ne ho avuti a parte mio padre insomma voglio dire quello che ha potuto me l'ha insegnato però è arrivato fino a un certo punto anche perché io sono tessa dura quindi comunque ci dovevo sbattere la testa lui mi aveva detto non ti devi fidare solo di uno però dopo ho voluto fare come mi pare perché perché i soldi erano cioè perché si guadagnava bene onestamente quindi è vero c'era un cliente solo però a quei tempi si guadagnava bene poi dopo c'è stato parliamo anche stiamo a parlare a cavallo quando c'è stata la famosa crisi del 2008 va bene che era diciamo il mondo immobiliare americano però i mercati si sono crollati un po' dappertutto da da quel periodo cioè diciamo che già il croller iniziavo due tre anni prima dopo lì c'è stata proprio la bolla è scoppiata la bolla del tutto ma dal 2005 erano cominciate a crollare un po' tutte le situazioni quindi anche parecchie aziende anche quella per cui lavoravo mi sono trovato senza niente vado su google la prima cosa che cerchi è che fai come lavorare da casa non mi ricordo come come guadagnare in internet non lo so c'aveva un computer scassatissimo che che ci metteva sai quelli che tipo che tipo arriva il tizio che deve ancora accendere il computer spingi il bottone e diceva beh intanto andava a fare colazione capito poi quando dormi era partito ho fatto questa ricerca e a quei tempi sapete che andava su ebay si trovava un metodo che vendevano che ti diceva di fare le foto praticamente di fare le foto agli oggetti e venderli su ebay era una stronzata una catena di sant'antonio che girava però sapete io comunque ho la partita io da quando c'ho 18 anni e ci ho visto subito l'idea quindi che ho fatto ho detto ma vabbè questa è una cazzata però che posso fare in realtà c'ho due furgoni che mi erano rimasti su gruppone quelli lì perché quando chiaramente non facevo più i giri sì però io comunque ero trasportatore e c'avevo due furgoni uno un po' più sfasciato e uno nuovo perché c'avevo sempre uno di riserva allora che succede che ho pensato ma se io andassi a svuotare le cantine di tutti quelli che c'hanno tutta robaccia sai dentro casa che non sanno più che farsene e me la vendo su ebay figata pazzesca prima ho fatto quelle cose mie ho iniziato con quello che c'avevo dentro il garage ti segnalo di vinte allora eh esatto ma a quei tempi non ero l'unico che faceva sta cosa ce n'erano un mare se vuoi andare a cercare su netflix c'è anche una serie che poi l'ho vista l'anno scorso e mi sono emozionato perché ho visto me in quel periodo di una ragazza che proprio inizia a vendere su ebay in quel periodo tutti genti vintage quando è data questa figura è il momento in cui io gli ho smesso di trovare le vespe abbandonate nelle cantine di Debo di nome un px 125 su ebay a quei tempi meno del 2000 2005 non ce lo trovavi appunto io io ci vivevo di io vivo in campagna quindi da me è pieno di casolari che avevano queste immense cantine piene di roba e i figli si trasferivano in città abbandonando dopo un certo punto la famiglia diceva ma porta via tutto basta che non mi levi la roba di qui mi fai un favore e trovavi delle perle assurde poi è nato internet e tutto ha avuto un prezzo e un gt quindi la prima la prima difficoltà l'ho trovata dentro ebay perché anche per lì per vendere ti dovevi posizionare quindi ho imparato sono diventato power seller di livello silver che è il secondo poi c'è il gold dopo c'era adesso non lo so dopo i primi tre mesi quindi già facevo 25.000 euro di fatturato svuotando le cantine questo per dire vedi che quando oggi si dice non c'è il lavoro non c'è il lavoro se uno aziene o aziona la testa il lavoro si trova a bizzeffe non sa quanto te ne pare guarda ce n'è uno che consiglio sempre a tutti di metterti una maglietta con il numero telefonico dietro cellulare che ho scritto tutto fare sulla schiena sicuro che non dai i resti soprattutto se ti metti fuori delle posse o vai al supermercato non dai i resti non dai i resti senti ma tornando all'affiliazione scusami se ti aspetta prima l'affiliazione come c'è arrivata la seo era la domanda ah ok pensavo scusa sempre tu e pensavo che avessi finito per posizionarti dentro ebay dovevi scrivere il titolo giusto la descrizione giusta mettere l'immagine originale tutta roba che poi funzionava anche su google quindi me la sono ritrovata quando nel 2006 più o meno fine 2006 ebay ha aumentato improvvisamente le provisioni del 4% quindi cioè dalla sera alla mattina ho detto ok da domani aumentiamo le provisioni del 4% quindi significava che c'avevi paypal che già ti prendeva allora il 4% già paypal 4% ebay se c'avevi un margine troppo piccolo non guadagnavi più niente allora ho fatto ho aperto l'e-commerce perché nel frattempo ho iniziato a vendere roba dei altri quindi già facevo drop shipping ho aperto l'e-commerce e quindi lì è stato necessario per forza fa SEO io la prima campagna di Google Ads l'ho fatta nel 2006 c'è ancora c'è un screenshot sul mio sito che fa vedere quanto è storico l'account e a quei tempi era fighissimo perché addirittura tu potevi anche senza mettere il CPC potevi lavorare per posizione cioè c'era la tendina e gli dicevi come vuoi uscire primo, secondo, terzo, quarto allora se tu metti primo lui ti metteva sempre primo fino a che non consumavi tutto il budget per dirvi come funzionava Google Ads quindi vabbè detto questo poi è passato all'e-commerce e lì la SEO è stata l'e-commerce lo sviluppasti tu? no, no ho comprato uno di quelli da un'azienda tra l'altro Campana non mi ricordo se era di Napoli che vendeva tipo super shop una roba del genere si vendeva si chiamava e costava 1500 euro una tantum e 250 l'anno d'abbonamento una roba del genere Clementi ti chiede cosa ma cosa oggi ma oggi cosa funziona ancora di quello che funzionava all'epoca allora quello che ha detto Anna ancora va cioè se vuoi dalle cantine funziona la grande secondo me perché ebay ma anche cioè prima c'era solo ebay adesso ci sta subito ci sta tanti altri tanti altri portali Vinted per per gli abiti e tante altre cose che proprio riguardano quella roba lì quindi secondo me anche i gioielli cioè no gioielli tipo i accessori artigianali perché una cugina che diciamo li produce e su Vinted vanno molto cioè tutta la roba anche artigianale altro che altro che quindi ecco tutte queste cose qui e poi ti dico il resto che cosa funziona funziona tre cose quattro forse HTML CSS JavaScript è per link cioè le basi del web funziona sempre questo e qui e qui vedi a una domanda che fa sempre Michele che ci segue che me l'ha detto anche oggi non te la volevo fare ma te la faccio per fare SEO bisogna saper programmare allora programmare non a livelli estremi io ho dovuto imparare cioè HTML CSS lo devi sapere JavaScript non serve e PHP diciamo che se usi un dinamico come WordPress non ti serve però io ancora ho tanti progetti che me li faccio in HTML la maggior parte cioè i progetti che ho più remunerativi in assoluto e che ancora e che mi porteranno probabilmente a guadagnare anche quando sarò vecchio sono tutte pagine HTML semplici col CSS in line ecco questo secondo me è un tema caldissimo quindi appunto cioè alla fine sintetizzando e ditemi se sto a fare questa sintesi cari amici ascoltatori probabilmente voi siete dei SEO buongiorno ma non sono l'unico che la pensa così non sono l'unico no no cioè ditemi se sto riassumendo bene cari colleghi in qualche modo spettatori fate SEO fate ads insomma state lavorando per dei clienti allegria date il culo tutti era sospetto mettetevi il proprio curate i vostri progetti questo è il zucco secondo me il zucco e fallo perché vivi meglio il punto è vivi meglio vivi meglio tanto ma poi Fabio guarda la semplicità è quello che che è la chiave vera cioè io vedo tanti tanti come li chiami le recuperazioni che ne so cose strane che mi hanno allontanato un po' dai gruppi da facebook dal confronto anche dai forum prima poi tu so tutte le idee brillanti le idee innovative io quando ho fatto le idee innovativa dinamica avanguardizza mi spaventano sicuramente è un'idea semplice trasformata in un'idea complicata che ci rivederà essere un problema sì 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 assolutamente cioè io quando vedo che ma questo non è che lo dico io sono cose banali forse da dire però forse a qualcuno gli serve un po' la conferma cioè quando ci metti troppo a capire qual è l'efficacia del progetto vuol dire che non ti serve magari un tool che dici aspetta che devo andare a fare un corso per imparare quello strumento cioè è sbagliato non è SAP capito e poi anche lì ne possiamo parlare insomma io ho lavorato con aziende che usavano SAP o gestionali insomma di alto profilo e poi andavo a vedere cioè alla fine la sostanza non c'era cioè su aziende di cui la maggior parte hanno chiuso hanno cambiato conformazione hanno cambiato gestionale cioè quelli che usavano SAP adesso usano Danea ma perché? perché Danea è più semplice perché si connette con tutto quello che ti pare dice vabbè ma il gestionale costa 50 euro l'anno sì ma l'ha fatto la Team System che è un'azienda che c'ha che c'ha dei programmatori là dentro che c'hanno quattro capocce non ce l'hanno una capito? io li conosco quelli che lavorano oh Enzo ti risponde per le rime eh bastassero quattro link e due articoli di blog non è alla portata di tutti si rinuncia ancora prima allora io io mi dispiace dover doverlo dire ma Enzo ovviamente me ci chiama un'altra delle cose che funzionano da allora e che funzionano ancora allora una volta c'era XRumor adesso si chiama GSA e so che la maggior parte di voi magari non lo utilizza però se voi andate a cercare GSA Search Indexer e ve lo scaricate sul vostro computer fate una prova ci mettete dentro un link di una pagina di destinazione una parola chiave che serve semplicemente per consentire al bot di cercare contenitori che trattano quell'argomento quello crea doorway e vi mette dei link di ritorno su siti già bucati quindi non andate da fastidio a nessuno c'ha pure i proxy quindi può stare dalla Russia dalla Tailandia da tutti i posti più sperduti del mondo e va sicuro che solo con quello rancate cioè quello funziona sempre non c'è stato il giro al PR o l'inbuilding che regge diciamo che tra i commenti c'è un concetto comune che vedo un po' su questa cosa io farei una live dedicata comunque a me mi sembra guarda quella di Clemente che la vedo che dice che c'è la famiglia coi figli io ho una figlia c'ho una figlia da c'è mia figlia c'è 21 anni quindi io l'ho fatta 26 sono un genitore piuttosto giovane e puoi chiedere anche a Salvatore Russo che è diventato nonno a 43 anni considera e quindi voglio dire tanta gente e Salvatore è uno che ha iniziato ai tempi miei cioè che comunque si è trovato in un momento in cui si è dovuto in qualche modo inventare di nuovo capito siamo siamo una generazione che però probabilmente è abbastanza flessibile sotto questo punto di vista tante tante persone che conosco insomma hanno queste realtà ci vuole un po' di coraggio tanto la differenza sta sempre su quello che ti dicevo prima sulla consapevolezza cioè ci stanno cose che attaccatranno lo stesso quindi se ti dovrà andare male te ci va lo stesso allora che cosa fai tu per difenderti ti crei il malessere e e riesci e lo superi da solo in quel momento probabilmente hai la forza giusta per farlo se invece ti capita quando meno te l'aspetti non è detto che tu abbia la forza di reagire questa è una questione del mindset però alla base però alla base ti deve piacere cioè se non hai quel brivido di metterti giù sì se sei uno che non riesce a stare almeno otto ore davanti al monitor lascia stare no no ma questa è una domanda quanto tempo quanto tempo hai lavorato almeno nella fase di start up del tuo progetto siccome io quando sono entrato avevo già alle spalle gente come Piazzante Paneghel Francesco De Francesco Giorgio Daverniti che stavano dentro da prima di me mi sono accorto che ci avevo tanto da imparare allora fino ai primi due anni cioè dal 2005 al 2007 io ho dormito un giorno sì e due no ragazzi è molto selettiva questa cosa è questo che torna un po' al discorso che diceva prima che non ci sono tanti giovani disposti a fare questa cosa perché quello è il problema scusate secondo me il messaggio che passa in questa cosa è se ti garba una cosa impegnati sii curioso e c'è da fare e trasversalmente non si sta parlando di SEO è molto difficile però essere sono caratteristiche alla fine rare soprattutto in contemporanea darsi da fare tanti non hanno voglia l'altra cosa che aggiungo a questo aggiungo a questo che dice Fabio è che quando ho iniziato io per quanto c'erano delle guide o delle cose io ho esaurito le conoscenze nel giro dei pochissimi mesi insomma quello che c'era ce n'era abbastanza ma era comunque primordiale quello che potevi trovare su gt forum o cose del genere quindi che succede che un certo punto ah l'altro mio grande diciamo al tempo insomma c'era veramente poca gente da cui imparare e la pagina che mi è stata più di insegnamento è stata una pagina che c'aveva Bruce Clay sul suo sito dove parlava di struttura silos e già c'era in quegli anni lì e ancora c'era trovata se andate sul sito di Bruce Clay e quella è stata la pagina che a me mi ha fatto capire tutto di come avrei dovuto lavorare scusami ti devo leggere un po' di domande che si stanno accumulando Demetrio meglio freelance o creare agenzia ecco questo potrebbe essere curioso freelance tutta la vita la chassa agenzia anche ora non ti converrebbe essere più persone mai più collaboratori però si no collaboratori assolutamente qui ci dice Clemente una base deve avere come avevi tu con il dropshipping ma oggi credo che la realtà sia un po' diversa e qui c'è sbagliato scusate però spiego bene a Clemente come è funzionato il mio accesso al dropshipping perché poi io ci ho avuto sempre la fortuna di incontrare le persone giuste però questo pure fa parte del mindset come fai a incontrare le persone giuste ti devi fare un sacco di domande e devi quando tu vai a dare la tua fiducia a una persona devi farti tutte le domande del caso ma com'è che questo mi risponde sempre sì ma com'è che questo è così disponibile con me ma com'è che cioè ti devi fare queste domande perché se tu ti affidi e basta sei in pollo rischi che ti frega quella rischi che ti stanno fregando perché troppa disponibilità troppo interesse ci sta sotto qualcosa allora io mi sono sempre posto delle domande e gli le ponevo a lui questo si chiamava si chiama Ettore era un ragazzo adesso un po' più più grande di Napoli che conobbi proprio su ebay perché mi contatto lui dicendomi guarda ho visto che tu fai un sacco di vendite su ebay di questo tipo di prodotto perché io vendevo prodotti per il networking allora c'era avevo preso l'onda delle reti aziendali quindi nascevano i primi nas wireless o le antenne wireless e queste cose qui considera tra le varie cose un servizio che vendevo a quei tempi era per le videoteche io vendevo i nas wireless dove loro ci mettevano dentro i video che poi facevano i duplicati sotto banco dei film che rivendevano e se gli entrava la finanza loro spegnevano il nasce e non si vedeva non ci stava dentro lo venevano sui controsoffitti ai tempi funzionava così perché non potevano mica venire i film col masterizzatore sotto il banco quelli delle videoteche però lo facevano come quelli dei negozi di dischi che te facevano il cd pirata e te lo portavi via a quei tempi era così se no tanto c'erano qui a Terni che per esempio c'è l'acciaieria se no c'erano quelli dell'acciaieria che facevano le carte della Sky o di DPU o queste robe dietro il portabagagli della macchina c'erano i masterizzatori tu andavi lì e ti davano la carta la mettevi dentro il decoder e ci vedevi partita quindi diciamo che sapendo che c'era chi lo faceva da privato c'erano le aziende che lo facevano comunque detto questo lui mi contattò dicendo vedo che vendi tutta sta roba e noi siamo un'azienda insomma in crescita di Napoli che abbiamo questo tipo dei prodotti e io ho detto sì vabbè ma io come faccio a vendere le cose vostre dice tu non ti devi preoccupare di niente noi ti diamo tutto il catalogo non devi comprare niente quindi ti diamo il magazzino un comodato d'uso tu vendi la roba ci mandi l'ordine e noi spediamo al cliente io ho detto guarda se è così facile facciamo e ho iniziato e dopo chiaramente due ore io già avevo il primo ordine perché su ebay ai tempi era velocissimo tipo mettevi dentro un prodotto e il tempo che si indicizzava iniziava a venderlo poi c'era un'applicazione per il desktop fighissima ai tempi per ebay ogni volta che vendevi un pezzo ti compariva la pop under su diciamo sullo schermo ti faceva proprio il suono e a un certo punto mi suonava 200 volte al giorno cioè era impressionante troppo bello era un pallottoliero e con lui abbiamo fatto degli affari incredibili siamo divertiti proprio da lì ho imparato proprio il dropshipping non lo conoscevo mi ha insegnato lui a fare questa cosa che anni erano? Germano dal 2005 al 2007 poi che è successo? io venendo avanti con gli anni ho visto cose che hanno fatto per passare per innovative ma che già si facevano a tempi cioè già a quel tempo io facevo c'avevo il punto ritiro SDA a casa stampavo io le bolle mi avevano dato loro il gestionale quindi c'avevo una stampante facevo quel software loro che c'aveva quelle gui di una volta capito che c'era il quadratino piccolo in mezzo allo schermo e mi facevo le bolle da solo preparavo le busse che mi dava SDA il corriere passava tutti i giorni a casa mia tra le 5 e le 6 del pomeriggio e i clienti la mattina tra le 10 e mezzogiorno c'avevano la roba quindi Amazon non si è inventato niente questa è la prima la seconda che facevo l'unboxing con l'assistente virtuale su Skype in real time perché a quei tempi su ebay c'era il bottone contatto al venditore con Skype ma arrivava la chiamata e c'era gente che mi diceva me lo fai vedere il prodotto io c'avevo la scatola io lo tiravo fuori gli dicevo vedi eccolo per attaccarlo queste sono le prese tutto quanto gli spiegavo come funzionava il prodotto e me lo compravo quindi tutta roba è una lezione di vita più che di seo sì sì io sono d'accordo con Germano con questo commento Germano ecco vi leggo la domanda perché non avessi modo di farlo credo che si possa far convivere le due anime clienti e affiliazione la verità di Emanuele sale a galla quando scopro che con un articolo solo di blog converto 150 euro al mese con Amazon Affiliate un solo articolo che fatica a fare progetti strutturati di clienti non trovate? Germano Germano è stato uno di quelli che si è fatto illuminare però e non tutti sono discusati qui con noi in questo momento prima c'era Enzo Michele altri colleghi che insomma conosciamo anche privatamente sappiamo che appunto cominciano a cullare certe idee se non le hanno già messe in pratica e chissà quanti altri io in primis che sono un fedelissimo del lavoro tradizionale concedetemi in questo termine sento sempre più questa vocina da una parte che mi dice ma chi te lo fa fa di sta a discute aspettare una fottura sono responsabile di ciò che sto facendo è ovvio questa cosa funziona se ho ben interpretato con chi ha voglia di fare perché poi ti devi ti devi rimboccare le mani guarda le faccio un esempio banale pratico su quello che potresti di aver fatto qualche giorno fa io mi occupo tra i vari business che ho mi occupo di numeri a valore aggiunto quindi i servizi telefonici le persone chiamano e che ne so chiedono i tarocchi oppure i numeri dell'otto se subito allora che succede che l'altro giorno siccome tra i vari servizi abbiamo anche l'erotico chiaramente è un servizio che ci sta da tanti anni esce la serie su Netflix che racconta la storia della nascita del telefono erotico cioè niente di più semplice la serie si chiama linee bollenti te compri linee bollenti.it te lo posizioni e quello è già un business cioè quando ero giovane e questa cosa mi parla crescendo sono diventato meno flessibile quando ero ragazzetto prima delle olimpiadi mi andavo a comprare il nome dominio di tutti gli atleti che non avevano ancora comprato il dominio e quindi ti prendevi nomecognome.com lo riempivi di testo e AdSense e ci guadagnavi e si parla di duemila anni fa prima era diverso prima era diverso ti posso contattare Emanuele per invitarti alla mia intervista posso certo fa una bellissima attento Antonio dire prima era diverso significa limitare la creatività non è così perché adesso ancora e prendi allora quando parliamo di domini ci sta che mi dice come faccio a scegliere un dominio a parte che io ci ho fatto anche un video poi tempo fa su YouTube e sta ancora lì il dominio è sempre uguale se devi fare un progetto che è basato su una cosa come questa chiaramente il chiave esatta è meglio se devi fare un progetto però capito se io vado a prendere una moda per dire di qualcosa come quelle che intercettava per dire Fabio fino a un po' di tempo fa e riesco a prendere un dominio a chiave esatta è molto più comodo per me perché tanto a me non mi interessa avere un brand in quel senso mi interessa promuovere qualcosa o avere offrire un servizio all'utente chiaramente che sia valido che va a cercare quella parola chiave o quel servizio lì che poi dipende sempre dalla niccia dipende sempre però dalla niccia però quando tu e giustamente Germano ha fatto l'esempio chiave quando tu c'hai per ogni idea che ti viene in mente metti su un progetto in due ore perché una volta che tu c'hai diciamo una struttura da html dove vai a cambiare i colori il logo il testo per la parte ci metti due ore a metterlo in linea cioè uno che c'ha un minimo di pratica dopo un po' che lo fai ti crei io per esempio c'è stato un periodo che ero arrivato ad avere 200 progetti di proprietà oggi non ce la faccio più a gestire ce ne ho un'ottantina considerate però considera se ogni progetto mi rende 100 euro ma 50 euro ok fa il calcolo però in questo caso ecco la domanda che volevo farti prima le nicchie nell'affiliazione quanto contano cioè nel senso quanto conta sceglierti la nicchia giusta allora più che la nicchia conta la tempistica e la concorrenza cioè se tu oggi vuoi aprire diciamo un programma d'affiliazione sulle assicurazioni faccio insieme assicurazioni auto sicuramente è una nicchia molto buona ma te lo sconsiglio ovviamente mentre per esempio ti consiglio di aprire un settore cioè sulla stessa nicchia assicurazioni ti consiglio di aprire un progetto per assicurazioni per smartphone per esempio oppure un argomento nuovo un trend nuovo diciamo sulla novità ormai non è più tanto nuovo però diciamo tra le varie cose l'assicurazione è uno di quelli più emergenti più emergenti oppure ti posso dire durante il lockdown ci sono state almeno dieci opportunità di nuovi business il termometro quello a raggi infrarossi che prima non c'era il saturimetro che prima non c'era la lampada led che prima non c'era lo sterilizzatore UV che prima non c'era sono tutti prodotti con cui ho monetizzato e continuo a farlo ancora con le mascherine FFP2 sono tutti prodotti che io ho iniziato a lavorare durante il lockdown e che ci ho guadagnato un sacco di soldi scusami ti leggo altre domande perché sennò si accumulano Roberto ti chiede meglio freelance ditta individuale o SRL? esatto l'ha fatta più giusta Roberto nel senso che allora io non lo so come che differenza c'è tra freelance e ditta individuale però io sono registrato come ditta individuale nel regime dei minimi come artigiano quindi comunque so dentro i 65 mila euro chiaro allora scorro velocemente commenti scusate se le posso dire che guadagno più adesso di quando c'avevo l'SRL che facevamo 3 milioni quindi no vabbè ragazzi dobbiamo rivedere le nostre vite è chiaro purtroppo stanno in Italia attenzione se poi uno è disposto ad andare che ne so a Dubai o alle Canarie o altri posti allora Enzo credo commenti una frase che avevi detto prima eh ma è anche una rinuncia a mettere su un progetto del genere moltissimi rinunci allora qui qui Enzo so che cosa vuole dire c'è una cosa di cui ho parlato tempo fa che ne parlo spesso però i miei video li guardano in tre cioè se voi andate sul mio canale YouTube e guardate la media visitatori di un mio video sono 3-5 persone però c'è uno di questi dove parlo di questo aspetto cioè hai mollato o hai fallito secondo me sono due cose molto diverse tra loro e io sono arrivato sempre a fallimento perché se non ci arrivi vuol dire che non ci hai provato abbastanza un'altra cosa che dicevo pure ai tempi quando ho iniziato con Adriano d'Arcangelis a fare SEO training il primo anno parlavamo delle penalizzazioni si parla in quei tempi andavano demota le penalizzazioni sì e il 2010 era 2009 2010 quindi io dicevo ai ragazzi non sai fin dove può arrivare un progetto finché non sei stato penalizzato almeno una volta è vero e questa era una chiave per capire chi ci stava provando davvero se non arrivi a quel livello non capisci veramente quanti limiti e se ne ha la SEO in alcuni casi vi posso dire che le penalizzazioni per alcune realtà non sono mai avvenute e quindi vi posso dire che su alcuni progetti mai penalizzati si può giocare sporco si può giocare sporco e lì c'è sta c'è sta la ciccia ovvero tante volte io sento ragazzi ora per accogliere appunto le tante domande Luca il punto è che nel momento in cui ti rendi conto che un progetto basato sul content marketing è scalabile e la tua attività come professionista no avendo solo 24 ore al giorno ti chiedi quanto valga la pena continuare a dedicare del tempo a progetti di qualcuno invece che ai tuoi Luca parla con una consapevolezza straordinaria perché lui si è creato un progetto forse più di uno veramente di valore e Luca è bravo Luca è un altro molto bravo quindi sa che significa vivere da affiliate avere una rendita passiva sa che significa tutta una serie di cose e sa anche un'altra cosa importante che prima accennava anche Germano io sono stato additato perché a un certo punto ho detto tempo fa meglio una pagina che fa mille visite che mille che fanno una visita ciascuna mi hanno detto no perché io sono capace di farle monetizzare tutte le visite dici io ho un conversion rate del 100% faccio una visita ok ma lì vabbè sei bravissimo mi caccio il cappello spegniamo tutti la telecamera e andiamo a casa però non funziona così se tu invece riesci a portare un alto volume di traffico anche solo su una pagina dentro un progetto quella pagina può portarti anche tutto il fatturato è un po' per la legge del baretto ne parlava anche Giulia Bezzi in un'altra vostra live cioè tu hai magari un contenitore più grande 20% eh? esatto serve a giustificare un contenitore grande cosa magari solo un 20% dei contenuti che realmente sono quelli che monetizzano però ci vuole anche quell'altro capito? cioè comunque ci vuole anche l'altra cosa e Enzo ti fa aspetta ma perché mi stai dicendo che i domini in chiave esatta contano il posizionamento? allora io c'ho quasi tutti i siti quelli che mi piacciono di più che hanno la chiave esatta ma perché? perché non ho lavorato mai in funzione di un brand però i progetti più belli su cui ho lavorato sono completamente dissociati dalla chiave per cui lavorano quindi diciamo che normalmente se devo fare un progetto affiliate molto molto spinto allora preferisco la chiave esatta perché è più veloce cioè raggiungo il risultato più velocemente se invece devo lavorare su un progetto di lungo termine per esempio il mio il mio sito è manueletolomei.it non è consulente seo esperto punto it allora a quel punto comunque sono disposto ad aspettare anche più tempo perché chiaramente lì c'è un discorso di immagine però il chiave esatta sull'affiliazione vale ancora funziona sempre no è illuminante mi piace un sacco questa serata ho smaltito tutte le domande no ne è arrivata un'altra guardate come sta bene ah è tornato si è andata via per un attimo quando si è assentato un po' di problemi di connessione solo di connessione eh tutti i livelli dai dai però quindi sarebbe un bel sacrificio si guarda se ne domande no mi interessa un attimino la parentesi sulle tecniche non proprio white le tecniche black gray black come le vogliamo chiamare allora no quello che ho detto GSA lo installi spingi il bottone start e fa tutto da solo fa tutto da solo c'era pure un altro se non sbaglio perché c'era uno con con il termine spam che ho usato in passato non mi ricordo come si chiamano i scarichi facevo un lavoro del genere però c'è GSA indexer fa directory submission comment submission creazione di profili social bookmark profili social diciamo facebook tutto quello che ti pare fa tutto quindi è completo si ti sento lo devi configurare ci devi passare un po' di tempo però il bello di GSA è che se vuoi puoi lavorarci anche pulito cioè perché per esempio sul local faccio un esempio banale dove ancora valgono le directory local per posizionare anche piccoli siti io posso anche mettere soltanto un motori di ricerche italiani lui deve cercare solo le directory locali e una volta preconfigurato bene che ci hai messo la classica descrizione il titolo a random che non te li mette tutti uguali su tutte quante lui entra e fa il bot cioè fa il login si registra crea la scheda gli arriva la mail ti conferma su una mail che tu chiaramente hai già un totale rincoglionito io ero stramega certo che oggi funzionassero pochissimo cosa di genere io ero usato milioni di anni fa si chiamava tua madre quello che usavo io ce l'ho ancora salvato senti perché non dirmi che non ci sei cascato io ci sono cascato ammetto la verità ammetto di questa cosa prima quando sono nati i primi siti in affiliazione con diciamo quelli un po' borderline che ti vendono ancora il prodotto che poi lo trovi su Amazon a 5 euro ma ci mettono la scatola figa allora costa 80 e sotto ci stanno le testimonianze di quello che l'ha comprato io inizialmente pensavo che erano vere quelle testimonianze lì ma ci hanno fregato ma dieci anni fa la prima volta e invece pensare che sono tutte finte è veramente brutto Enzo ti fa una bellissima domanda continuo a provocare un consiglio di seguire a parte naturalmente allora John Muller poi si porta dietro tutta una serie di adepti come Barry Schwarz e compagnia cantante che comunque non fanno altro che confondere tutti confondere la comunità SEO tirare acqua al proprio mulino e chiaramente parlare di una realtà soprattutto che è completamente diversa da quella che viviamo noi perché chi un pochino ne sa se si rende conto immediatamente il mercato nostro è completamente diverso da quello americano quindi che senso ha fare gli stessi ragionamenti che fanno loro nella nostra piccola Italia cioè non c'ha senso non so se se questo è capitato mai di di ragionarci insomma sì comunque ci dobbiamo mettere in proprio eh dobbiamo studiare il nostro spettacolo Lorenzo Hanson Fire oddio aspetta ho fatto questo Thomas Buehler Thomas Buehler allora io vi posso dire quelli che seguo adesso ho preso la wish a un euro e vende la sull'amazon a ventina cosa si fa allora proprio perché Demetri ha nominato wish mi piace dire un'altra cosa uno probabilmente è l'unico post che ha fatto come si chiama interazione non so se c'è il termine specifico sul mio gruppo su facebook è stato quando ho lanciato questa provocazione dicendo a chi ne faceva parte cercami una parola chiave per cui wish è posizionato sulla prima pagina di google e non ce n'erano a distanza di e tutto questo nasceva da un ragionamento che faccio perché da anni mi occupo anche d'altro non faccio solo se chiaramente e quindi mi chiedevo ma quanto è sostenibile wish quanto durerà quanto andrà avanti poi a un certo punto wish è sparito e nessuno si è chiesto perché non esiste più non lo so se esiste però io non so se qualcuno mi è arrivata una notificata da poco si guarda ah si perché ci compri ancora dove è andata sei uno dei pochi che ancora compra su wish no in realtà è tantissimo che non ci compri è la verità però 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 diciamo che non è più di una volta e devo dire che a mio parere una parte della causa della perdita di visibilità di wish è proprio il fatto che non hanno mai curato la SEO soprattutto in alcuni paesi come il nostro per dire hanno solo lavorato con pubblicità display sponsorizzate remarketing e così via quindi chiusi quei rubinetti che poteva essere parte iniziale dei fondi acquisiti per il lancio della piattaforma a un certo punto devi cominciare a incassare perché non è poi la cosa anche con la customer experience sono latenti là bene o male online la SEO è la banca sono i bot è l'investimento più duraturo e stabile che c'è bravo in realtà ora guarda faccio una domanda penso a voce alta anche comunque il branding alla fine è simile perché anche lì l'algoritmo che impazzisce ti cassa se la persona si ricorda di te comunque ti trova l'algoritmo che impazzisce ti trova vale secondo me fino a un certo punto vale se quello che vendi ce l'hai solo tu quello che c'ha wish ormai ce l'hanno tutti ce l'hanno tante altre piattaforme lì ormai le robe che trovi ormai da tempo le trovi anche su Amazon sono le stesse aziende cinesi che vendono dentro Amazon ce ne stanno bizzef io l'altro giorno guarda per farti un esempio tanto per dire mi sei rotto cioè vedi che da qui si vede quello lì è un orologio comprato su Shane per esempio che invece c'ha tutta un'altra portata va bene fra un po' per esempio se quoterà in borsa e vi consiglio di comprare le azioni se si quoterà mi sei rotto sta a fare va bene che è il classico coso standard che si mette lì allora che succede che l'avrei potuto comprare su Shane ma loro non ce l'hanno ricambio assurdo lo trovi su Amazon a un euro e trenta sta a fare co con la spedizione in realtà mi viene mi viene un po' un prendila con le molle una critica insegui comprendi le azioni che fanno le aziende conosci la SEO capisci i trend di mercato ma non siamo mica tutti geni ho paura a fare una cosa del genere perché io non mi sento ad altezza cioè in quella ora qui hai toccato mille temi con una ta 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 col cavolo che io so fare altrimenti con una sensazione di sicurezza e consapevolezza personale rispetto alle proprie capacità secondo me cioè poi alla fine diventa anche una scusa penso stare di essere capaci secondo me tutti sono capaci di fare qualcosa di grande nella vita basta avere un po' di consapevolezza un po' eh però qui ci vuole proprio un po' di visione allora quando entri quando entri in questo campo la sindrome dell'impostore che è una cosa che di cui parlo spesso con Michele mi viene sempre a bussare cioè nel senso è come se fosse una sfida no? l'entrare con un progetto di affiliate investire su me stesso ma ho paura di lasciare i clienti per dire perché so che domani potrei restare col sedere per terra questa cosa mi fa dubitare delle mie possibilità per dare una chiave a te e a chi sta ascoltando o ascolterà il video vi faccio una cosa pratica proprio semplicissima io come faccio per intercettare un business che mi monetizza domani va bene facciamo su domani va bene allora che succede vado su pure qui io dico sempre ci ho fatto un video ma tanto non lo guarda nessuno non li guarda nessuno i miei video ma sta su youtube questa cosa magari scrivo male i titoli se o non lo so non lo so può essere però diciamo che parlo di questa tecnica semplicissima cioè tu che fai è applicabile in più livelli per esempio su amazon c'è sta chi va a guardare i più popolari oppure cioè i più venduti oppure quelli più scontati oppure l'offerta last minute c'è invece una tendina di amazon quando dovevi cercare sui best seller la seconda che è quella i prodotti del momento cioè quelli che vanno di più in quel momento cioè oggi e vai a vedere c'è il rank che ti fa vedere che ne so da ieri quel prodotto è salito il 2000% anche senza creare una seo cioè anche senza la seo con quel prodotto là cioè comunque devi creare la pagina perché non puoi sponsorizzare direttamente il prodotto su amazon ma mandarlo su una pagina intermedia quindi anche semplicemente con una landing che chiunque di noi insomma che un minimo di settore ci mette un'oretta o due per farla e una campagna ben eseguita come le sa Fabio solo con quel prodotto là tu ci fai i numeri da il giorno zero questa è la prima la seconda con che li fai i numeri col nuovo cioè col famoso 16% quello di cui io parlo da quando ero piccolo 16% è un dato che ci ha insegnato Google svariati anni fa che ci dice che ogni giorno almeno il 16% delle ricerche che vengono fatte all'interno del motore di ricerca non era mai stato eseguito precedentemente quindi sono chiavi nuove la maggior parte sono news eventi catastrofi cose strane però ci sta una parte che riguarda prodotti brand iniziative servizi vi svelo il vero segreto create contenuti in merito a una catastrofe e poi causatela anche quello madonna però diciamo che se tu riesci a fare quello già sai un altro passo avanti come fai a farlo cioè come faccio a capire qual è sto 16% allora in parte ci può aiutare Google Trend con tutto quello che è come si chiama vabbè che non è più cercato ma è cresci esponenzialmente non mi ricordo come c'è scritto dentro e quindi già lì stiamo mettendo i vari filtri su shopping sulle cose e trovare nuovi prodotti dall'altra parte possiamo usare marketplace d'affiliazione e questa è la chiave che uso io più spesso per esempio su Awin quando è uscito Zalando perché io ci ho fatti i soldi con Zalando perché ho fatti i soldi con Groupon perché a un certo punto sulla prima pagina di Awin che una volta era Zanox quando tu scorri e ti sei loggato sulla prima pagina ti fa vedere i nuovi dieci progetti che sono entrati in affiliazione in quella settimana lì di cui sono stati lanciati i progetti quindi significa che se tu ne scegli uno di quei dieci che ti piace e ci punti subito però allora non devi aspettare che Zalando lancia lo spot con lo strillo per fare i soldi perché dopo lì c'è stato il boom noi avevamo iniziato a monetizzare dal giorno zero con Zalando perché Zalando già stava facendo campagne pubblicitarie di tutt'altro genere su magari sulle pubblicità Movimento o cose strane la stessa cosa l'ho fatta per esempio con le carte di credito quando sono entrato io già c'era N26 Revolut Hype tutta sta roba già esisteva con che l'ho fatto i soldi con le carte di credito con la carta blu cashback di American Express voi manco sapete che esiste la carta blu di American Express perché tu sai che c'è stata quella verde la gold e la platinum la blu non se la caga nessuno benissimo la vendo io 40 euro a carta a metà American Express ammazzano vi sto a fare solo degli esempi io ci potrei obbligare domattina domattina alle 7 meet cominciamo a pensare a qualcosa sì 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 vabbè ragazzi sì Julio e ti telefono telefono casa un centesimo dei suoi neuroni anche mia cioè anch'io vorrei mi arricadisco e so che riesco il 16% ogni giorno Enzo secondo me i tuoi video li guardano in pochi perché quando bisogna capire cose che richiede un'applicazione molti non hanno voglia di farlo perché viscono risate favole scorciatoie più comodo è più facile dico anche un'ultima cosa cioè c'è una prima però tutti i suggerimenti questo qui soprattutto è per i giovani perché vedo tanti ragazzi che adesso si vogliono buttare nel mondo del real estate ok quindi prendere immobili e affittarli Airbnb o meno e così via per carità un settore straordinario però c'è il video quello che ho fatto come diventare un imprenditore digitale che hanno visto in 10 invece non in 3 ma un po' più persone dove faccio l'esempio classico di chi fa l'imprenditore immobiliare e chi fa affiliate marketing se tu vuoi avere una rendita passiva da un affitto a meno che la casa non ce l'hai già di proprietà e ti puoi permettere di affittarla a qualcuno ci sta chi lo fa cioè che compra casa affitta la casa magari a 1000 euro perché sta in centro a Milano e lui vive in campagna a 300 euro al mese ci sta chi fa pure queste cose perché è molto frugale così chiamato in termine italiano ma dall'altra parte che succede che per acquistare una casa che potrai affittare a 500 euro al mese devi fare un investimento che varia 350 e 200 mila euro ok dici vabbè ma io mi pago il mutuo con i soldi del mutuo ci pago l'affitto ok aspetta con i soldi del mutuo con l'affitto che percepisco ci pago il mutuo quindi tu stai a zero ti trovi un bene fra 20 anni 30 anni quando è finito il mutuo non ci piove la differenza con l'affiliate o comunque con chi lavora nel digital può essere anche l'e-generation altre cose che comunque monetizzano è che la tua rendita è direttamente proporzionale a quanto ti impegni sul progetto perché se riesci a portare un progetto a rendere 500 euro al mese dopo 6 mesi di attività ti posso garantire che come professionista non ci hai investito più di 5000 euro mettendoci le ore che ci hai dedicato perché quelle le devi calcolare se tu decidi di raddoppiare l'investimento su quella cosa allora proporzionalmente non del doppio ma direttamente proporzionale aumenta anche la tua rendita a differenza dell'affitto della casa che sarà sempre uguale mentre il valore della casa diminuirà e aumenteranno le spese di gestione e tutto quello che comporta avere una proprietà perché non si delegano cose del genere cioè se io devo fare la SEO per i miei articoli che poi fanno affiliazione perché non farla fare a un altro e io sto proprio a casa in un libano infatti io non la faccio perché sono imprenditore digitale cioè io decido l'idea commissiono l'articolo tra l'altro a me me li scrive Jasper gli articoli pubblico l'articolo finito in tre ore c'ho pure l'articolo scritto quindi tu lo fai con l'idea con l'intelligenza domani si ragiona su un nuovo business vogliamo parlare di Jasper vogliamo fare un esempio in diretta prendiamo un articolo scritto da un copy che mi fa spendere trenta euro l'articolo e poi uno che mi scrive Jasper e va sicuro che sono meglio quelli del Jasper l'esperienza io l'ho testato io l'ho testato quindi sono d'accordo con te che è molto cioè va molto bene da questo punto di vista però credo che la revisione del copy ci voglia sempre alla fine cioè la revisione perché a volte diciamo sgarra l'intento cose del genere sono estremamente provocatori in questo però per anni ho subito consegne di articoli illegibili su cui ho dovuto fare revisioni di persone che si ritengono copy e che si fanno pagare ti ho detto più o meno trenta euro per un articolo medio diciamo che va tra l'ottocento e le mille parole e ho sentito che tra l'altro vi parlavate anche con l'altro ragazzo la volta scorsa infatti lì i prezzi più o meno erano corretti però voglio dire cioè non ne vale la pena le dico perché tanto tanto succede tutto lo stesso e qua tutti quelli che fanno la mia professione sono morti no assolutamente no perché se tu ti mettessi invece a scrivere per te troverai sempre tra gli articoli che hanno letto in due sul mio sito c'è uno che dice che se io fossi stato un bravo copy sarei milionario il problema mio è che non so scrivere hai ragione però perché ecco quello che chi fa content copy e content poi alla fine non fa mai niente per se stesso guarda io con te guarda mi vorrei quasi sbilanciare e tentare fare un test se ti va possiamo anche fare un progetto da zero che io te lo monto e tu fai il contenuto e ti garantisco che te lo porto a monetizzare se è una cosa che hai scritto tu sono sicuro che monetizzi entro i primi 30 giorni ma io colgo la spita al volo è proprio semplice oh io si stia di me darcencio ti sei pure io che ho porto le casse d'acqua no tu ti metti il chiamano è il mondo cioè immaginatevi avete presente la scena Jurassic Park quando li fa e vede il brottosauro il brachiosauro io sono in quel momento lì sono sulla jeep con la musica di sottofondo c'è una domanda interessante di Luca usi anche Surferseo con Jasper lo sai Luca che non so che cos'è Surferseo mi hai detto una cosa brutta però magari lo vado a guardare detto da te sicuramente vale la pena Michele ha condiviso un link Antonio mettiamolo tra i commenti domattina alle 7 e mezzo si trova lì ok domani che giorno è venerdì come no domani mattina c'ho le news del web marketing quindi preparatevi perché le faccio lì a quel punto eh sì a quel punto sì facciamo vabbè 7 e mezza già mai Roberto io ho un progetto su Jasper effettivamente merita se si risponde all'intento e si affianca a UX lato content si può in molti casi andare di AI ma si è comunque limitati Germano quello che scrive Anna vende troppo buono Emanuele se serve ecco se ho già proposto suoi mie antiche allora poi la mia era una provocazione io ho detto perché perché Jasper e poi comunque nella nella seconda fase è normale che ci metto le mani io o ci mette le mani la persona delle competenze di Anna e così via però a me serve di partire subito col progetto quindi io lo lancio lo lancio e lo faccio elaborare lo faccio elaborare e poi dopo man mano che va avanti questo poi chi mi conosce lo sa come funziona tmetodo che io lavoro solo con search console quindi non uso nessun tool nessun tool seo da da ormai quattro anni non uso più niente e se non se ci querellano eh la associazione di categoria dei copy la associazione dei no dai difendo io la associazione di categoria copy difendo io questo non significa che non so progetti vali io dico per come mi sono conformato io la mia l'ottica di produttività il tuo discorso ci sta benissimo io devo ottimizzare i costi anche capito la figura del revisore dei contenuti alla fine ci torna il revisore dice Emanuele per scavare nella maggior parte dei casi è il tuo utente il revisore dei contenuti cioè non è vero è anche un falso mito il discorso che le persone non commentano più sui blog non è vero lo fanno se il contenuto è valido sì è vero questo è vero quindi se il contenuto io di solito sono quello che viene a sparare cazzata invece in questo caso addirittura proverò ad avere un approccio mediato però cioè in realtà io sono uno stramega appassionato di AI cioè io la prima cosa che ho fatto quando ho parato a legge è Asimov quindi per me la AI è uno spettacolo ma sono anche un appassionato di umani e ci stanno tutte e due rispondono esigenze diverse e contesti diversi quindi dipende che cosa stai facendo in quel momento lì attenzione io sto parlando anche del settore affiliate che è un settore miserabile se vogliamo cioè non è io non ce la spreco l'intelligenza di Anna per scrivere un articolo su un prodotto che costa 15 euro e che ci guadagno 30 centesimi di commissione su Amazon devi calcolare quello mentre se devo scrivere una cosa per una mia pagina del mio sito magari faccio una chiacchierata o un'intervista da un quarto della guanna e gli dico scrivi la cosa più bella che ti viene in mente dopo che mi hai parlato magari può essere anche racchiusa nella live che abbiamo fatto oggi cioè ti dico Anna tira fuori i più bei pensieri o le cose più importanti che ci siamo detti oggi e mettermeli su un testo in modo che io me li possa poi spendere su una mia pagina allora quello cioè secondo me lì certo che c'è bisogno dell'intelligenza della persona scusa mi risponde Germano Germano conosco uno che ha fatto un consume per bonsai che è uno spettacolo se volete vi metto un contatto così fate affiliazione senza intermediari Germano è un appassionato di bonsai proprio Germano è il mio maestro del bonsai però tutto nasce dal fatto che io c'ho i bonsai.it che è un mio sito e che tra l'altro sta pure abbastanza messo bene diciamo poi dopo grazie ancora a lui dopo che ci ha messo le mani perché lui tra l'altro risponde a quelli che scrivono sotto che gli dicono ma Germano allora come posso fare ma allora questo è il momento giusto ma quanto concime quanta luce e lui gli risponde perfetto preciso per la potatura per tutte queste cose però io sto sito ce l'ho è uno dei tanti dei tanti progetti di cui parlavo prima sta lì magari tira fuori che ne so 40 euro al mese vabbè buttale via insieme a tanti altri rispondo rispondo a Germano in diretta è un ragazzo che conosco io non ho la capacità di valutare la bontà dei concimi per bonsai ma è sicuramente una persona brava si chiama Anima questo concime non so se l'ha già sentito ma lui è orgogliosissimo di averlo dai Germano che lo vendiamo quanti connessi fa i bonsai chiamatevi mettetevi in contatto eh adesso anzi darello che fa parecchie l'unica cosa io non me ne intendo so che è uno che le fa col cuore le cose che è già un bel pezzo è già importante ecco qui ci spiega l'uva seo utilizza anche lui la i per determinare quali sono i titoli da utilizzare e le parole chiave da utilizzare nel testo mi ha affiancato a Jasper nella fase iniziale per definire la struttura dell'articolo titoli e sottotitoli interni e capire quali sono gli argomenti a trattare nel testo sto semplificando molto con questo video ma con questo video in inglese vi potete fare un'idea più chiara grazie mille Luca anche Luca l'ha chiamato sì 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 ma Luca è una bestia totale 10 mila di seo 10 mila di seo 10 mila di seo quello del bonsai è buono per vendere il mancime dai con cime no con cime nana la pianta dicevo sto server seo dovrebbe essere simile ad outranking che non so se l'avete mai usato outranking pure matcha intelligenza artificiale e tool seo per la generazione di meta description title e ti fa anche la keyword research e ti prende anche ti estrae anche alcuni risultati da google quindi credo che sia simile chissà se c'è una versione free o è a pagamento anche all'inizio server seo Luca faccelo sapere allora tu pure hai detto un'altra cosa chiave sempre per chi dovesse decidere di entrare a lavorare con l'affili e queste cose qua non cercate mai di non pagare esatto investite pregate tempo sì per quello poi non ho i strumenti uso solo search console perché è gratis scusate un attimo che mi sono accorto solo di un dettaglietto ora è un'ora e mezzo che siamo qui Emanuele mamma mia mamma mia se è gente che ha famiglia dovete andare insomma a rendere conto ma pure tu c'hai famiglia scusa a me lo sanno che quando io parlo delle mie cose non c'è orario ormai sono affiliati grande grande mamma mia che io non la finirei più di parlare di questa ok non costa poco meno un progetto di affiliazione ve l'ho ripagata abbondantemente chiaro nella SEO è meglio il contenuto rispetto alla tecnica e con questa scioglietta direi che sì direi assolutamente sì e qui anzi considera che normalmente io ormai diciamo quasi da sempre però ultimamente molto di più se mi capita di far scrivere qualcosa a un copy lo dico perché nel settore finanziario invece c'è un ragazzo che mi scrive che si fa anche paga bene perché mi chiede un sacco di soldi però so è roba che diciamo molto brava insomma il settore delicato che io ne so zero quindi faccio scrivere a lui e e quando mi manda un articolo dove c'è la parola chiave per esempio che me l'ha ripetuta due volte allora mi incazzo perché non ce le voglio le parole chiave voglio che lui scriva come se sta a parlare una persona che gli spiega la cosa ecco a me per me il tono voice conta tanto cioè il io invece voglio voglio trasporre nella vita reale il keyword stuffing voglio aprire un bar e quando viene una persona e fa allora mi ha chiesto un caffè caffè preparo subito il suo caffè macchiato un caffè e un po' di zucchero nel suo caffè grazie spero gli sia piaciuto il caffè e con questa perla di Fabio io chiuderei perché altrimenti restiamo a parlare di chicchi di caffè ragazzi io organizziamo un'età che passo col camper carico tutti sì ti veniamo a trovare Emanuele se non ci ah guarda io se riesci a fare una camperata Fabio sono contento ma chi può funzionare ho percorsi i primi chilometri senza rimanere a piedi se sono solo aperti delle porte che non avrebbero dovuto però è un grande passo avanti tanto qui a piedi luca è tutta una grande area camper quindi non è un problema ti metti poi dove vuoi grazie Emanuele grazie mille per questa live grazie grazie a voi veramente straordinari e vi seguo sempre ma questo lo sapete è troppo onoratissimo cioè veramente mi trovo quasi in imbarazzo perché su youtube è l'unico like che c'hai su tutti i video è il mio che sono l'unico che ti guarda da youtube ebbè però è un like è un like di qualità non è un like sono in imbarazzo letteralmente grazie infinite grazie a tutti coloro che ci hanno seguito un abbraccio grazie a voi e infinite grazie a Emanuele buonasera ciao ciao